Nella sala consigliare del comune di Fano quattro operatori delle forze dell'ordine questa sera hanno ricevuto un encomio speciale conferito dal comune di Fano per le azioni che li hanno contraddistinti durante la loro giornata di lavoro. Quattro operatori sono due agenti di pubblica sicurezza Marco Magini e Nicola Moschella e due carabinieri il brigadiere Francesco Scaletti e l'appuntato scelto Cristian Piscopiello. Questi quattro agenti, questi quattro ragazzi comuni che possiamo dire ogni giorno svolgono il loro lavoro, eroi oppure servitori dello Stato, scegliete voi. Fatto sta che le loro azioni hanno permesso in un caso di salvare una vita e nell'altro caso se ce ne fosse stato bisogno anche loro avrebbero salvato una vita tra le acque limacciose della darsena borghese. Questa sera il conferimento e il grazie di tutta la comunità fanese e al loro senso altissimo del dovere. Sì in realtà è un'ottima cosa, un riconoscimento che va a merito veramente degli operatori della volante che si sacrificano tantissimo. Loro sono due che in questa occasione hanno veramente mostrato grandissimo senso del dovere, spirito di sacrificio. Ma ripeto, in rappresentanza di tutto il corpo della squadra volante del commissariato di Fano che giornalmente veramente dà un impegno, dà l'impegno massimo nella loro attività, nel loro lavoro. Ecco, quello è lo stato d'animo col quale vi approstate a questo momento? No, è stata una bella cosa sicuramente. Come ha detto il dottore è stata una cosa che ci viene da dentro. Non abbiamo pensato un attimo, ci siamo comunque subito immersi per vedere comunque se c'era qualcuno e fortunatamente all'interno poi alla fine non c'era nessuno. Però è stato veramente un attimo, non abbiamo pensato un secondo alle conseguenze, insomma ci siamo andati e basta. Allora, un momento importante da condividere con tutta la comunità per quattro agenti che si sono distinti in maniera significativa nel loro adempimento del dovere. Sì, sì, un'iniziativa veramente meritoria, pregevole questa dell'amministrazione comunale di Fano perché testimonia il rapporto di collaborazione e di fiducia che esiste tra la società civile, le amministrazioni locali e le forze di polizia. Quindi è un esempio virtuoso che credo possa e debba essere seguito da altre amministrazioni locali. Ci auguriamo sempre che, come avviene nella maggior parte dei casi, tutti gli appartenenti alle forze di polizia possano essere sempre meritevoli di questi riconoscimenti. Questo è un bel momento in cui riusciamo a condividere con la cittadinanza lo sforzo, l'impegno e l'impegno con il quale noi carabinieri ci prestiamo al servizio sociale che compiamo tutti i giorni. E questa è l'occasione nella quale possiamo ringraziare due nostri uomini per il loro operato. L'emozione c'è, senza dubbio. Per me non è la prima volta, però c'è sempre un'emozione. Ovviamente questo va dedicato alla persona che siamo riusciti a tirar fuori da quella brutta storia e la dedico a lui. Ecco, alle volte si agisce, come ho detto, con i vostri colleghi distinto. Insomma, è il cuore che ti porta a fare le cose, oltre che la divisa che si porta. Sicuramente sì. È una missione. Alla prossima